Ciao, sono Giuseppe Desario e da 25 anni svolgo la professione di architetto in Italia. Una professione che è frutto della presenza nel mio territorio di episodi architettonici di diversa natura, cultura ed epoca e questa passione per l'architettura poi nel tempo si è trasformata in lavoro. In questi anni mi sono dedicato con passione a lavori diversi fra loro e per dimensione e per impegno seguendone quotidianamente lo sviluppo dalla progettazione architettonica a tavolino sino alla presenza quotidiana sui cantieri sino all'intero design per consegnare alla committenza un lavoro che poi è l'aspettativa diciamo che loro auspicano. Il mio approccio lavoro è meticoloso, aperto a confronto e molto disponibile a fare squadra per ottenere il meglio dei risultati. Essere architetto ha una grande responsabilità perché ciò che si progetta e poi si realizza ha una lunga vita nel tempo, spesso anche più lunga della vita dell'uomo. E proprio su questo concetto si basa il mio modo di fare architettura, cioè cercare di progettare e realizzare manufatti edifici funzionali, armonici e anche esteticamente gradevoli ed apprezzabili, in maniera tale da dare il mio contributo personale allo sviluppo di una città in cui la gente trovi il piacere di vivere. Con pari di edizione svolgo i miei lavori da interior design, cercando di trovare soluzioni le più vicine possibili a quello che il cliente mi richiede, ottimizzando una distribuzione funzionale degli alloggi, alla ricerca di colori e materiali che incrocino il gusto della clientela e poi con quella ricerca a volte maniacale dei dettagli che poi caratterizzano il risultato finale e che rappresentano la mia firma. Il mio obiettivo è quello di far incontrare fra di loro le tecniche e i modi di ricostruire di questo territorio con la mia esperienza acquisita nel modo di costruire e di fare più architettura. Ringrazio la Camera di Commercio di Tampa per avermi dato la possibilità di raccontarmi in un contesto che sono certo in futuro avrà grossi sviluppi.